Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di un caso piuttosto particolare, quello di Alfredo Cospito condannato all'ergastolo stativo per un reato che non ha visto né morti né feriti e del suo sciopero della fame. Come potete intuire la materia sarà abbastanza controversa e quindi a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? La prima domanda da porsi è ma esattamente chi è Alfredo Cospito? Intendo dire io personalmente non ricordo di averlo mai sentito nominare prima di oggi. Facendo qualche ricerca scopriamo in maniera abbastanza agevole che è nato a Pescara nel 1967, ha vissuto per lo più a Torino, aveva o ha una compagna e ha portato avanti un paio di attentatucci terroristici. Il tutto nel nome e sotto il segno della minacciosa bandiera del FAI, la Federazione Anarchica Informale, da non confondersi con la Federazione Anarchica Italiana che invece ripudia l'uso della violenza per raggiungere i suoi obiettivi politici. Alfredo Cospito, come tutti gli anarchici, non sopporta le regole e il capitale e sostanzialmente potrebbe essere definito comunista se solo non gli stessero sui maroni anche le persone di sinistra. Il suo compito nella vita è quello di scardinare le istituzioni e per farlo si avvale della collaborazione della sua piccola cellula, nome in codice Olga. Di questa Olga fanno parte principalmente, se non esclusivamente, almeno stando alle fonti di stampa, il suo migliore amico e la sua compagna. Nel 2012 Cospito viene arrestato dopo aver gambizzato il CEO di Ansaldo Nucleare, responsabile a suo dire, oltre dell'essere un capitalista e quindi un bersaglio degno di voler oltretutto riportare in auge l'energia nucleare in Italia, cosa brutta e cattiva. E per questo reato verrà condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi. Il suo migliore amico e complice invece otterrà uno sconticino di pena e ritornerà libero nel 2020. E mentre Alfredo Cospito si trova in carcere viene indagato e processato anche per un altro attentato, consumato nel 2006 presso la scuola dei carabinieri di Fossano. In pratica, secondo la ricostruzione dell'accusa, lui e la sua compagna avrebbero piazzato due ordini esplosivi all'ingresso di questa scuola. Per fortuna non ci sono state vittime. Tuttavia l'accusa di strage è davvero grave e Cospito si porta a casa, nei primi due gradi, 20 anni di reclusione. La compagna che l'ha aiutato invece se la cava con soli, fra virgolette, 16 anni. E se a questo punto pensate che la situazione giudiziaria di Cospito non possa peggiorare, vi sbagliate. La Corte di Cassazione infatti riqualifica il reato da strage a strage contro la sicurezza dello Stato. Reato ancora più grave del precedente che prevede come pena l'ergastolo ostativo. In pratica Cospito non solo si ritrova con una pena più alta, ma addirittura finisce al carcere duro, quello del 41 bis, che notoriamente è riservato anche ai mafiosi. Cospito, detto fra parentesi, ha un sinistro record e il primo anarchico a finire in questo regime di detenzione. E detto fra parentesi, questo regime di detenzione è stato applicato perché, a parere dei magistrati, Cospito non solo non ha interrotto i legami con l'ambiente rivoluzionario esterno, ma addirittura ha fomentato diverse iniziative, indicando bersagli e modus operandi per innescare la sua tanto amata rivoluzione. Il suo difensore si attiverà presso il tribunale di sorveglianza per evitare che venga applicato il 41 bis, ma il tribunale non gli darà soddisfazione. Il difensore di Cospito a questo punto fa quello che fanno tutti gli avvocati, ricorre in Cassazione. L'udienza è inizialmente fissata per il mese di marzo. Cospito, da anarchico modello, non accetta la cosa e inizia a organizzarsi per contrastare la decisione dello Stato. Cerca di mangiare il più possibile, ingrassa, si procura degli integratori alimentari e poi inizia un clamoroso sciopero della fame. La notizia di questo sciopero è arrivata al grande pubblico in questi giorni, ma in realtà è iniziato tre mesi prima. In considerazione di questo fatto, la Corte di Cassazione, alla quale naturalmente Cospito aveva fatto ricorso, aveva inizialmente fissato la discussione per il 20 aprile, ma date le condizioni di salute di Cospito, i giudici hanno ritenuto di poter anticipare l'udienza al 7 marzo. Insomma, il caso in sé per sé è relativamente semplice, ma a complicarlo ci pensano i politici. C'è infatti Andrea Orlando, ex ministro della giustizia e attuale deputato sotto il vessillo del PD, che invoca un intervento urgente da parte di Nordio, l'attuale ministro di giustizia. E l'alleanza Verdi e Sinistra, il gruppo che ha sponsorizzato su Mahoru, per intenderci, vuole un'informativa urgente in Parlamento e soprattutto vuole sapere se corrisponde a verità o meno il fatto che l'amministrazione carceraria abbia fatto pressioni sul medico personale di Cospito affinché questi non rilasciasse un'intervista a radio onda d'urto, ritenuta dalla direzione del carcere vicina agli ambienti anarchici. Quest'ultima questione è relativamente semplice e quindi possiamo parlarne anche in maniera sportiva. Quando vai a fare visita a un detenuto, tu naturalmente hai il diritto e il dovere di interloquire con lui, ma non puoi portare all'esterno le informazioni che questo detenuto ti affida. Ed il motivo è semplicissimo, bisogna essere per quanto possibile matematicamente sicuri che il detenuto non dia istruzioni all'esterno per compiere altri reati. Magari si tratta di frasi all'apparenza innocue che però nascondono un significato profondo molto più pericoloso. Che so, anche una frase apparentemente innocente come Avvocato per favore riferisca a Pippo di prendere un geranio per Gino per il 18 febbraio. Poi magari tu come avvocato non lo sai, sei in buona fede, ma la parola geranio per quell'amico significa indicare la volontà di eliminare qualcuno. Il 18 febbraio indica magari due complici, uno contrassegnato dal numero 18 e l'altro dal mese febbraio. E naturalmente il fatto che debbano essere portati a Gino indica che questo Gino debba essere eliminato. E questo è il motivo per cui, in teoria, gli avvocati quando vanno in carcere non possono riportare messaggi di alcun genere all'esterno. E la stessa regola vale naturalmente anche per i medici e per tutto il resto del personale o dei liberi professionisti che hanno a che fare con i detenuti. La questione invece relativa al carcere duro è al tempo stesso estremamente semplice e un poco complicata. Estremamente semplice per un fatto tremendamente banale. Cospito si trova in condizioni di salute più o meno difficili perché ha scelto lui di fare lo sciopero della fame. Non c'è stata una malattia esterna che l'ha ridotto così. Ed il ministro di grazie e giustizia si trova di fronte a un evidente dilemma. Se usa il suo potere per rimuovere questa misura, chiunque inizi a fare lo sciopero della fame potrebbe non trovarsi più al 41 bis, compresi anche certi boss dei boss che si trovano al momento in carcere e sono estremamente pericolosi. Inoltre lo stesso Cospito, ammesso e non concesso che abbia effettivamente posto in essere questa condotta, potrebbe tornare a fornire indicazioni ai suoi amici anarchici sui bersagli da colpire e fomentare la sua rivoluzione detto fra virgolette. E naturalmente anche questa è una responsabilità politica non da poco. E in secondo luogo c'è anche un problema di principio. È giusto che il ministro di giustizia scavalchi la magistratura? Cioè la legge è uguale per tutti ma per Cospito deve essere un pochino più uguale che per altri? Il problema sta anche qui e a oggi Nordio non sembra intenzionato a prendere alcun provvedimento. Sembra invece che il ministro della giustizia si aspetti che sia la Corte di Cassazione a decidere e peraltro rispetto a quando l'ex ministro Orlando ha portato in Parlamento la questione, la Corte di Cassazione, come ripeto, ha anticipato l'udienza dal 20 aprile al 7 marzo. Resta poi naturalmente un altro argomento che dovrebbe essere affrontato probabilmente dalla Corte Costituzionale ed è quello relativo alla proporzionalità della pena. Intendo dire, Cospito ha sì ferito una persona e per questo reato giustamente fra virgolette gli sono stati combinati più di dieci anni di reclusione. Ma dall'altra parte egli ha sì posto in essere un atto decisamente brutto e cattivo, non lo posso definire diversamente perché se no il supremo algoritmo si imbippa e mi imbippa. Ma è altrettanto vero che per fortuna e forse non solo per quella nessuno è rimasto ferito. Motivo per cui dare l'ergastolo a qualcuno per un atto dove nessuno ha riportato neppure un graffio potrebbe essere un filino eccessivo. Poi ripeto, questo dipende dalla sensibilità di ognuno e dalla funzione che ognuno di noi attribuisce principalmente alla pena. Per quanto mi riguarda è più una questione di rieducazione, magari per altri è una questione di punizione e ci può stare. E infine è il caso di rilevare che questa battaglia portata avanti, forse senza troppa convinzione, ma comunque portata avanti dal centro-sinistra, potrebbe avvantaggiare anche i boss mafiosi, i quali sono i destinatari principali se non proprio esclusivi delle misure del 41 bis. Se tu inizi ad aprire una crepa in questo caso, poi magari la crepa si allargherà e qualcuno dei boss dei boss potrebbe anche riuscire a passarci attraverso. Quindi voi che cosa ne dite? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il mio canale, ma per qualche inspiegabile ragione, non vi siete iscritti, non avete attivato la campanella, non condividete i video e non avete neanche messo il like, fatelo perché diversamente un giorno molto ma molto lontano potreste trovare degli ordigni inesplosi nella spazzatura. Come sempre grazie di tutto per tutto e a presto!